il suggestivo percorso dell'anello priority del comune di luca denarsi e adesso arriviamo al limite del territorio comunale ecco qui più avanti dopo questa curva inizia il comune di trasacco un giro di boa e andiamo giù questo è l'anello priority di circa 3 km in un circuito al comune della parte del comune di nazi si continua a scendere inizia la frescana e sono le 17 e il carattolo è un biotrappico ciclistico si, la mia pesce non indietro ecco secondo me ma non 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 forse anche domani fammi l'allontano qui c'è il bambino l'ingrocio questa è la strada sterrata che conduce al comune di Trasac e qui ritorniamo verso il paese perchè questo è sempre territorio comunale con una panama guardate che meraviglia